Ciao, da quanto? Elena, provincia di Vicenza. Età? 26, anche se ne dimostro meno. Giusto, ne dimostro meno. Ne dimostri meno, ne dimostri meno. Che cringe. 4 anni. Milano. Greta. Alice. 22. 23. Milano. San Donato. Anch'io Milano. Ludovino. Ma la seconda è la tipa di Lazza. Pressione gomme. Elena Berlato la conosce anche il Papa.